È morta in Burkina Faso dove si era trasferita nel 2016 Maria Ida Paolotti, aveva 81 anni e era da tempo malata, originario di Torino, si era trasferita a Via Reggio dove ha insegnato per poi lasciare la scuola all'età pensionabile e dedicarsi completamente ai cosiddetti ultimi e agli invisibili. Viveva al Varignano dove si è sempre occupata di chi era in difficoltà, non solo nel quartiere ma anche in città. Lasciò un appartamento dove abitava per andare a vivere in un camper in via Fosso alle 15 per stare vicino ai senza tetto. Poi la decisione di andare in Africa a fare del bere, da dove è tornata nel corso di questi anni a Via Reggio solo una volta, ma per sua scelta sarà sepolta lì. Lunedì sera nella chiesa della risurrezione al Varignano organizzata una veglia di preghiera per ricordarla da parte della Caritas e dei familiari. La notizia della sua scomparsa fatta in fretta al giro della città dove era conosciuta e apprezzata per il suo impegno sociale. Nel 2020 uno dei nipoti, Mirko Gabrielli, realizzò una mostra dal titolo Mia Nonna a una piccola grande donna presso il bar Waino che gestisce in via Aurelia Nord. Ognuna delle tavole illustrate riportava una sintetica ed esaustiva spiegazione su alcuni aspetti della realtà in uno dei paesi più poveri del continente africano.